Torino 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 Probabilmente di domani I giocatori a scambiarsi Appunto a scambiare le firme A dare le proprie firme ai tifosi Comunque c'è veramente un entusiasmo Il clima è molto sereno La giornata tra l'altro è anche molto bella Aspettiamo di capire quali saranno le indicazioni per la giornata di domani Che vi comunicheremo molto presto su www.toro.it Dove potete seguire l'allenamento in diretta E anche tutte le foto della giornata di oggi E tutti gli aggiornamenti in diretta qui da Bormio Un saluto a tutti Ci riaggiorniamo a breve